a quanto pare la Roma ha vinta la Champions League oggi mazza che fenomeni con Di Bale e Lukaku partivano favoriti hanno vinta si 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 ne so che hanno vinta queste sono le coppe del Real Madrid queste sono le coppe del Real Madrid e saranno sempre le coppe del Real Madrid secondo me se il Real gioco come deve giocare non ce n'è per nessuno non ce n'è per nessuno il Dortmund si spreme all'inizio crea occasioni il Real la fa giocare ma poi gli ultimi minuti gli ultimi 20 minuti l'ultima mezz'ora comunque poi il Real esce sempre fuori e la porta a casa in scioltezza un 2-0 senza storia e i crucchi se ne vanno a casa ciao crucchi ciao tedeschi di merda sono proprio contento sono proprio contento dovete far lì come nazione dovete far lì me sopporto viva Carletto viva Real Madrid e queste sono partite queste sono squadre di calcio queste sono un patrimonio per il calcio europeo ho la Real Madrid forze Real Madrid e finisce questa stagione con un trionfo meritato 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 grazie a tutti